buongiorno buongiorno dal dottore claudio saracino da benessere l'ipnosi soluzione l'ipnosi di c severa e professionale con la v maiuscola oggi ragazzi rispondo ad un signore della germania di frankfurt il quale mi scrive dottore ho un problema di obesità non riesco a dimagrire oppure ho fatto la dieta x y z ma non riesco a dimagrire cosa mi consiglia io gli ho spiegato che o vado a un professionista dell'ipnosi vera e professionale a v maiuscola della sua zona di frankfurt che abbia però già affrontato casi come il suo oppure scaricarsi un audio molto potente e naturale dal titolo ipno dieta che trova sul sito della mia associazione ipno legge associati los angeles baby reels e meravigliarsi del potere della propria mente se segue le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro si meraviglierà di come l'obesità non sia altro che una paura inconscia trasmessa al corpo lo so che adesso tu non ci credi che tu dirai che dice sciocchezza impossibile non è cosa e invece sì ragazzi se tu scavi in chi ha qualche chilo al di sopra della del peso ideale del peso in equilibrio soggettivo che varia da persona a persona è perché ha una paura paura della morte in senso lato ma in senso specifico molti ti diranno perché mangi perché sei viziato perché ti piacciono gli zuccheri perché ti buffi di gelati perché mangi tanti tante torte bla 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 ma questo è l'effetto la causa vera è che la nostra mente il nostro subcosciente il nostro cervello primitivo che risale a milioni di anni fa come i nostri antenati che passavano da periodi vacche grasse dove si mangiava periodi vacche magre dove non si mangiava che cosa succede che al momento in cui oggi con il terzo genitore che la tv i social le informazioni che ci bombardano da tutte le parti destra manca sinistra eccetera succede che ci fanno avere paura se non per noi per i cari per il futuro per il lavoro per la guerra per il covid per qualsiasi cosa che cosa facciamo mangiamo ci abbuffiamo anche la noia ci fa mangiare ma la noia deriva sempre dall'aspettare la famosa morte non devi credere a me ripeto non è un discorso razionale io lo so che per un obeso se gli dici tu mangi perché è la colpa è tua ti manda a quel paese ti manda a fanculo scusa l'espressione però ricordati che il subcosciente ha le sue ragioni che la ragione non conosce come diceva anche blesse pascal per cui solo a te la scelta se scaricarti quest'audio mp3 dcs e meravigliarti del potere della tua mente per eliminare tutte quelle nuvore nere le emozioni negative che ti causano l'obesità il mangiare troppo oppure andare presso un professionista dell'ipnosi vera professione della tua zona anche se non usa il metodo dcs che unico al mondo perché il sottoscritto al momento ha sospeso in tutto il mondo le sessioni online di prosi dcs che le faccio dal 2008 ad oggi cioè più di 12 anni ma siccome adesso sono impegnati in altri progetti le ho sospese dappertutto fammi tutte le domande del caso visita il mio sito internet www.ipronologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi o diprosi del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino e far share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me nel 2008 a centinaia e centinaia di persone aiutate al sottoscritto nel mondo e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dcs del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico a mia amica mia alla prossima ciao